Direi che a questo punto passiamo la parola a Sandra Loia, missione favorire partecipazione attiva. A me non resta che fare gli avvisi finali come la messa, quindi buon aperitivo. No, volevo un po' riprendere, tirare le somme e riprendere un po' il senso. Spero che sia stata innanzitutto un'ora e mezza molto ricca per tutti quanti, per noi lo è stata. Quindi innanzitutto lato nostro, per il nostro lavoro, vi ringrazio moltissimo perché ogni discorso, ogni parola è stato diciamo a commento del lavoro che abbiamo fatto insieme nell'arco di questi mesi. Dicevo che riprendo un po' anche il senso, cioè ricomincio da dove aveva iniziato Matteo, cioè per noi questo serve per un lavoro che ci porterà dritti al 2028. E questo ci ricorda, secondo me, qualcosa che dovremmo tenere a mente un po' tutti quanti noi. Cioè il fatto che quando noi stiamo pensando ad un'azione, oggi, domani, la prossima settimana, tra un mese, e poi la progetteremo, e poi la implementeremo, e poi ci saranno gli effetti di quello che faremo, in verità abbiamo un jet lag, cioè noi adesso, in questo momento, siamo chiamati a fare i conti con le caratteristiche del contesto in questo momento, ma per cercare di avere degli effetti che saranno gli effetti su un contesto che sarà quello del 2030, tendenzialmente. E quindi il nostro lavoro è quello di cercare di capire quali sono queste prospettive. Stiamo quindi provando insieme, in una progettazione partecipata per come si può e si riesce, quando siamo così tanti, e un territorio oggettivamente così vasto, in una rete abbastanza media, tutto sommato abbastanza piccola, dove voi siete le nostre cinche di trasmissione, in qualche modo. Stiamo cercando di riuscire ad avere una visione comune in prospettiva di quella che può essere la partecipazione attiva in tutte le sue sfumature, e anche tutte le sue criticità, che ci può essere di aiuto in un contesto del nord-ovest del 2030. Per questo appunto vi ringrazio molto e spero che anche per voi sia un lavoro che vi portate a casa rispetto a delle domande, ci abbiamo pensato anche molto rispetto a domande che erano venute fuori, ai concetti lemmi, come le chiamati Bertram, che sono venuti fuori e abbiamo cercato di immaginare quali potevano essere quelli più inerenti ad un nord-ovest del domani. Dunque, sempre in famosi avvisi di fine messa, allora volevo innanzitutto ricordarvi, perché ci tengo molto, è stato un lavoro abbastanza importante, non so se avete provato col QR code, voi direte, ma vabbè, ok, è la missione partecipazione, sopra gli SDGs c'è una frase che abbiamo inserito, dove ci sono due link, uno è il documento, il report delle famose 3.000 battute, dove troverete la sintesi, in quel caso è proprio la sintesi, è un elaborato di quello che era venuto fuori nel percorso, questo è il primo pezzo, poi vediamo che cosa succederà nell'arco del 2024 da questo punto di vista. Ma la cosa che io penso, che sono poi anche abbastanza pratica da un certo punto di vista, la cosa che credo che sia anche molto utile è il secondo link, dove c'è l'elenco di tutte le persone che hanno partecipato a questo percorso del 28, come hanno già più volte ricordato, il 28 di giugno o il 34 di ottobre, c'è la biografia di tutte le persone, ma soprattutto ci sono i contatti. Molto spesso, quando stiamo cercando qualcuno che deve parlare di qualcosa sul tema della partecipazione attiva, non sappiamo cosa fare, secondo me quello è uno strumento che è a disposizione di tutti quanti, perché potete vedere appunto, come dicevamo prima, fondazioni, professionisti in genere, ricercatori, docenti dell'università, persone della pubblica amministrazione, eccetera, che ci hanno aiutato da questo punto di vista e sono comunque degli esperti e che insieme stanno costruendo insieme a noi queste parole, questi concetti e queste prospettive della partecipazione attiva. Siamo ovviamente, continuando in questo filone della partecipazione attiva, ovviamente sempre disponibili come sempre, io e i miei colleghi a ricevere feedback anche di questa giornata, ovviamente la più grande curiosità è cercare di capire da chi ha partecipato se era qualcosa che si aspettavano in questa modalità, sono certa di no, però spero che sia stato utile, se ci sono dei suggerimenti, qualsiasi cosa, insomma, benvenga, perché da qui, insomma, in qualche modo, come vi abbiamo spiegato, è la fine di un pezzo, ma l'inizio di un pezzo successivo, e direi buon appetito, buon aperitivo a tutti quanti, grazie infinitamente a tutti. Grazie. Grazie.